Sei sicura che non vuoi venire da me? Sì, domani ho il lavoro e devo svegliarmi presto. Ok. Però è stata una bella serata. Anche per me. E grazie per la cena messicana. Figurati. Beh, allora vado. Buonanotte. Buonanotte. Ciao. No, 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 aspetta, 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 aspetta. Come andate, Deo, Deo. Oh, Deo. Che... Che c'è marcio dentro? Sono i tacos!